Giudice Supremo, in virtù della vittoria dei giochi mediovali, nel mentre forgiamo i nostri migliori immagini ai giovani che, con spirito di parte, hanno dato lustro alla festa lottando con lealtà per onorare la cavalleresca contesa, e ora, assegniamo lo palio dello corandimazzo dei piccoli alla parte di sopra. Giudice Supremo, in virtù della geografica contesa, ci Francia non abbiamo Gesù, in virtù della Coppa e sei literate orale,